Allora, volevo fare un episodio su Beba perché ho apprezzato molto la sua ultima dentro di me, in quanto la reputa una canzone in cui si descrive esattamente quel momento in cui tu fai partire una sorta di treno dalla tua stazione e poi praticamente scendi. È un meccanismo quasi di autosabotaggio, lei dice che era anche in una storia sotto covid che l'ha fatto perdere lei stessa e anche Beba, quindi persona e personaggio, artista e vita privata. Cioè quello che voglio dire è che in questa canzone emerge in maniera molto chiara e nitida il fatto che lei si sia sentita privata di un qualcosa che le apparteneva e che aveva costruito e non è una cosa molto comune perché in verità un errore lei l'ha commesso, cioè l'avere un po' il delirio di onnipotenza, credere di essere stata diciamo la donna alfa del rap, no? E tra parentesi, quella è una cosa che all'inizio funziona perché non è che dici magari vai avanti solo per i tuoi meriti, nel senso lei è una ragazza fortissima, mi piace anche come scrive, però c'è da dire che questa roba dell'essere la donna nel rap l'ha pompata, l'ha pompata tanto, una fase iniziale, ma poi le carriere vanno avanti e quella roba sparisce, è un po' come il doping e adesso si trova a fare i conti con un mondo che non è più donna o uomo. Le tue canzoni devono piacere, uno se le deve ascoltare, appunto. Poi c'è anche a dire che non ti puoi permettere di fermarti tanto tempo, non ti puoi permettere di sbagliare troppe tracce, il pubblico è infame e ti abbandona per il sì e per il no. Non accetta due tracce sbagliate consecutive, se poi rifai una traccia che gli arriva, gli piace e se la riascolta, ma siamo in una situazione in cui non è più l'artista che viene seguito, ma sono le tracce come i post. L'era TikTok, TikTok ha aperto un'era, che tra l'altro TikTok è in chiusura, però nel senso è ciò che fai che mi importa, mi appartiene e l'algoritmo lo fa girare. Tra l'altro Beba, come tante altre persone, hanno vissuto la situazione in cui praticamente erano bombate da major e via dicendo, mille playlist, mille cose. Se sei fuori da quei meccanismi, vai a vedere che effettivamente, anche che ti seguono tantissime persone, però non sono mai abbastanza, mai sufficienti. Se io non giocassi sull'hype, questo podcast in giro di poco morirebbe e invece ogni volta rinasce grazie a un potere algoritmico che deriva dal fatto che io sto sempre sul pezzo. E così funziona. Ora ovviamente col podcast è più facile fare 200.000 episodi, in attimo prendi, dici la tua, boom e sporti, ciao. Con la musica è più complesso, devi fare una traccia al mese, forse anche ogni due settimane a volte, dipende dal periodo, devi saperti sempre rinnovare e la musica è complessa. Inoltre magari tu fai una canzone che è sentitissima per te ma che magari non è mainstream, quindi piace al tuo pubblico ma non al grande pubblico. E non è facile e Beba adesso si trova davanti a una situazione complessa perché che decisione deve prendere? Fare un percorso indipendente, un passo alla volta che la porta a riacquisire il suo pubblico che già c'è più uno nuovo oppure iniziare a seguire un po', a fare delle canzoni proprio hit? Io credo che le due cose debbano coincidere. Devi fare un qualcosa che ti rappresenta ma che allo stesso tempo sia popolare, sia mainstream. Perché? Perché il vero problema non è che quest'artista deve solo rappresentarsi ma che questa roba è il suo lavoro. Mi sono licenziata, i miei miti mi dicevano che ero forte e adesso che devo fare? Eh, la musica come lavoro, l'arte come lavoro è un supplizio perché non ti consente di essere sempre autentico e spesso c'è un gioco di autostima, magari, non so, dentro di me, magari non ha avuto la rilevanza che hanno avuto altri brani ma allora è appunto uno dei suoi migliori, forse è quello che a me mi è piaciuto di più. Però io sono uno, gli altri? Poi c'è lei, c'è da dire, che fa appunto questo rap che adesso non sta pagando più come prima. Sempre in relazione al fatto che, no, il rap, sei femmina, che fa rap lo fai bene e quindi fai impressione, no? Deve essere veramente difficile, io le auguro veramente di trovare la sua dimensione, di campare di musica tutta la vita ma, insomma, non è facile, lo capisco, la vedo, la seguo anche sui social da un po', e la vedo che sta cercando di fare il possibile, c'è poi anche quella fase in cui, essendo un lavoro, devi forzare mentre invece quando una carriera inizia, sei in ascesa, non devi forzare nulla, ti arriva tutto, no? Come aprire un ristorante, arriva la gente, poi a un certo punto devi fare promozione, devi fare in modo che la gente arrivi e non è facile perché poi la gente è bastarda, la gente si stufa, i contratti scadono, insomma, è complesso perché poi il mercato adesso è pieno di gente, escono tantissime release, che dire, bocca al lupo a Beba spero che questa canzone in uscita sia una hit che la rappresenti, non posso dire altro. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.